Vi auguro la buonanotte con questo messaggio. La buonanotte è un'arte sacra, un linguaggio universale, espressione di vita, un rito. È connessione con la forza della natura, con l'energia vitale. È contemplazione, flusso eterno. Danzare è meditazione. È fare poesia attraverso il corpo. È trasformazione, silenzio interiore, fusione con la propria dimensione spirituale. Con l'assoluto, la vita è una danza, l'arte è maestra che sana, eterno mutamento. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte. Grazie. 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 Grazie.